Buongiorno e buon giovedì 4 luglio, buongiorno. Mentre l'affare Icardi si intreccia in maniera clamorosa, si dice di una visita a Ibiza da parte di Paratici alla signora Wanda e quindi le cose si stanno muovendo forse, se i rumors dicono la verità, parliamo del Milan. Parliamo del Milan e diciamo che un'accessione è sicura, non è quella di Donnarumma che non è assolutamente sicura, non andrà sicuramente come ho detto già ieri al Manchester perché il Manchester ha rinnovato fino al 2023 a De Gea, ma un'accessione è sicura e si tratta di Riccardo Guglielmo Tell Rodriguez. Il giocatore non rientra nei piani del Milan, non rientra nei piani tecnici di Giampaolo e dunque verrà ceduto. Riccardo Rodriguez è un'accessione sicura. Dove andrà? Lui spera, e le trattative in questo senso sono avviate, spera di andare in Inghilterra, Premier League. Soprattutto c'è una squadra in pole position che è l'Everton, seguito poi da Arsenal e Manchester, ma l'Everton è più vicino. Quindi attendiamo un trasferimento di Riccardo Rodriguez all'Everton, la gioca Teo Hernández e poi bisognerà vedere che movimenti ci potranno essere su quella fascia. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Grazie.